Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Oggi voglio parlare dell'ultimo libro di Francesco Galvano, di Scacchi mentali, dove lui parla di tecniche di elicitazione. Cosa sono queste tecniche di elicitazione? Ora lo vedremo, ma comunque questa parola elicitazione la troverete scritta all'interno del libro, quindi capirete benissimo cosa sono le tecniche di elicitazione. Francesco Galvano ha pubblicato quest'ultimo libro, dove parla di queste tecniche, che sono tecniche usate per ricercare informazioni, tecniche anche usate dalla polizia, dall'FBI durante gli interrogatori. Lui parla proprio di tutte le tecniche usate per l'elicitazione, quindi sono più di 48 tecniche, che ne parla in maniera molto fluida, quindi vi spiega cos'è la tecnica, vi fa degli esempi in vari scenari, che possono essere scenari ospedalieri, scenari lavorativi, scolastici, sportivi, eccetera, eccetera, quindi vi fa proprio degli esempi pratici. Alcune tecniche possono sembrare uguali, ma in realtà sono simili, sono simili, ma lui vi spiega le differenze, quindi non si dilunga troppo negli esempi, ma vi dà proprio il sunto, quello che a voi serve, l'informazione pura che a voi serve per applicarla. Io l'ho letto veramente volentieri, come tutti i libri di Francesco Galvano scorrono veramente bene, sono libri adatti anche a chi non è addetto ai lavori, quindi a chi non è pratico della materia, lo leggete veramente bene. Ha fatto una versione anche in inglese, quindi chi vuole può anche comprare la versione in inglese, vi ricordo che Francesco Galvano è un psicologo esperto in tecniche organizzative e gestionali, ha collaborato anche con enti pubblici e privati per la formazione del personale, per quanto riguarda la parte marketing, leadership, eccetera, eccetera. Quindi potete leggere poi la sua bibliografia all'interno del libro, perché è molto interessante, ha un bel curriculum. Persona veramente, veramente preparata. Anche questo libro ho voluto, ho preteso la sua dedica, perché non posso non avere la dedica dell'autore sul libro, quindi ripeto, questo libro è unico nella sua specie, nella sua categoria, non ce ne sono altri che vi parlano di queste tecniche così in maniera approfondita, è comunque molto semplice, di facile comprensione. Io ve lo consiglio moltissimo, se volete fare anche un regalo di compleanno, un regalo di Natale, sicuramente questo libro è adatto. Io ho letto molti libri riguardanti tecniche di comunicazione, persuasione, interrogatori, ma questo di Francesco Galvano è quello che mi è piaciuto di più, in quanto è più scorrevole, è di facile comprensione, e poi parlo di tecniche che da altre parti non ho mai trovato scritto, e neanche accennato, perché di solito si parla sempre di quello di più in uso, invece lui ha toccato tutte le tecniche, tutte quante. Vi dirò che leggendole mi sono tornate in mente anche tecniche che, sì, noi nella vita quotidiana usiamo tutti i giorni, non sappiamo che magari quella rientra in una tecnica di elicitazione, quindi magari molti di voi le usano inconsapevolmente. Comunque vi ricordo e vendita su Amazon Francesco Galvano e ve lo consiglio. È un ottimo libro, tecniche di elicitazione e scacchi mentali. Grazie e arrivederci al prossimo video.